Buongiorno e bentrovati appuntamento di lunedì lunedì 25 settembre 2017 con Mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei giornali come ogni lunedì parleremo ampiamente di sport nella seconda pagina e partiamo però come di consueto con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi in edicolo iniziamo con il centro con l'edizione di Pescara l'apertura ancora una volta eccola qui inquadrata e dedicata all'omicidio di Montesilvano il Roma ucciso per un debito di droga, delitto di Montesilvano la discussione degenerata all'interno del pub dopo un'offesa a tal proposito questa mattina alle 11 ci sarà una conferenza stampa presso il comando provinciale dell'arma Pescara per riferire delle ultime novità e anche dell'arresto di sabato scorso del presunto omicida vediamo gli altri titoli il titolo a centro pagina che riguarda il post terremoto gestione dei fondi, la denuncia del sindaco di Amatrice vedete nella foto i soldi degli italiani per impianti termali e non per i terremotati e poi le cronache di Pescara in questo caso rapina con la pistola, dammi la macchina, colpo in via Raffaello sabato sera e poi tassa sui rifiuti, scadenza per 40.000 pescaresi e poi il calcio con il Pescara che stenta ecco le grane di mister Zeman e poi qualche titolo di cronaca nazionale sempre dalla prima pagina del centro il primo riguarda le elezioni in Germania Merkel vince Macala, boom dell'estrema destra e poi ancora una tragedia in volo caccia precipita in mare, morto il pilota è accaduto a Terracina lasciamo la prima pagina del centro edizione di Pescara siamo a quella di L'Aquila Vezzano sul Mona la sfilata dei 5.000 alpini vedete questo è il titolo principale L'Aquila applausi per il 95enne Valentino Di Franco reduce dalla campagna di Russia poi vediamo le cronache grande spazio allo sport anche per quanto riguarda l'inserto dell'edizione di L'Aquila Avezzano e Sul Mona del centro Avezzano K.O. ultra aggrediti L'Aquila scivola in trasferta e poi ancora Avezzano il parroco sulle strade troppi morti a Sul Mona, volontari anti incendio sui monti Siamo all'edizione di Teramo del centro mai così pulito il mare Teramano i dati dell'Arta per l'estate scorsa solo tre casi di inquinamento un anno fa erano stati 18 e poi le cronache viabilità nuovi progetti parla il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi che dice l'8.0 deve essere prolungato e poi ancora Teramo ma in questo caso si parla di sport Teramo fragile il Pordenone capolista fa quattro gol ai Biancorossi e poi il San Nicolò beffa il Pineto ieri il derby giocato sul neutro di Morrodoro la sconfitta della formazione pinetese con il tecnico Daniele Amaulo che vedete nella foto che rischia l'esonero vedremo cosa accadrà nelle prossime ore ieri sera lunga riunione al termine della gara a Pineto dei dirigenti bianco-azzurri andiamo a vedere anche l'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro blitz alla villa giovani con la droga Chieti un ragazzo su quattro trovato con ascice e marijuana le dosi nascoste in un calzino questa è l'operazione delle forze dell'ordine la villa comunale di Chieti e poi parliamo di lavoro la onuel de Atessa la messa di Don Carmine Dio è per il lavoro a tutti ha detto il sacerdote poi Vasto il sindaco aggredito per la terza volta in comune e restando a Vasto ma parlando di sport c'è la sconfitta c'è stata ieri la sconfitta dei bianco-rossi della vastesa all'Aragona superata la formazione aragonese per 2 a 0 dal Matelica e il Chieti invece avanza con Super Cioffi Mauro Cioffi attaccante dei Neroverdi parliamo in questo caso del campionato di eccellenza andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero la prova regina è nel fucile si parla anche in questo caso sul messaggero del delitto di Montesilvano Pescara dà la perizia balistica sull'arma usata per uccidere il Roma Antonio Bevilacqua i carabinieri attendono gli elementi decisivi contro Massimo Fantauzzi arrestato sabato scorso e poi vediamo altri titoli nella prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero la villa comunale centrale della droga Chieti un blitz notturno conferma i sospetti decine di dosi di maioara nascoste tra le siepi e poi a centro pagina vedete la foto l'aquila e gli alpini ricordi e dolore la sfilata delle penne nere nel centro storico poi vediamo un altro titolo che riguarda in questo caso la riforma sulla forestale l'attenzione dell'Europa sulla riforma dei forestali si parla di fusione contestata leggiamo anche questo risvolto di questo articolo di Spalla dopo il Tar il caso arriva all'esame del Comitato per i diritti sociali in alto come sempre sull'inserto Abruzzo del messaggero il lunedì ci sono i richiami dello sport serie C Pordenone troppo forte il Terramone prende 4 volley di serie A2 si è cortona Capone il debutto a Spoleto ma si sapeva serie D Beffa l'Aquila Pali e sconfitta vincono San Nicolò e Francavilla abbiamo visto dunque anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero possiamo andare a vedere insieme invece ora le prime pagine dei quotidiani nazionali partendo come sempre dal quotidiano milanese il Corriere della Sera Merkel più debole vola l'ultra destra ovviamente tutti i titoli principali riguardano le elezioni che ci sono state in Germania ha vinto ancora una volta la cancelliera uscente ma c'è diciamo questo risultato che preoccupa con l'aumento dei voti da parte dell'ultra destra la cancelliera vince ma con 8 punti in meno faremo il governo oggi finisce però la grande coalizione e poi dalla politica tedesca quella di casa nostra vedete di spalla questo articolo tra l'altro evidenziato in giallo duello nei 5 stelle tra Fico e Di Maio non è lui il capo dopo le diciamo le decisioni del endorsement pentastellato di candidare Di Maio come leader del movimento 5 stelle anche in funzione delle prossime elezioni dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica anche in questo caso il titolo è sulle elezioni tedesche destra e calo Merkel spaventano l'Unione Europea la cancelliera al 33% mi aspettavo di più e poi boom per l'estrema destra che con il 13% conquista 96 seggi in Parlamento rabbia e contestazioni a Berlino e poi in basso vedete si parla di economia in questo caso andiamo a vedere questo titolo la qualità della vita si misura oltre il PIL arrivano gli indicatori del benessere lasciamo Repubblica e andiamo a vedere il quotidiano torinese la stampa su tutti i giornali come vi dicevo campeggiano i titoli sulle elezioni in Germania la destra tedesca spaventa l'Europa quasi 100 deputati agli estremistri Merkel prima ma perde 8 punti e poi prima uscita di Di Maio vedevamo prima sul Corriere della Sera la polemica interna al Movimento Trafico e Di Maio ma Di Maio parla già da leader e dice basta soldi alle missioni Nato questa la dichiarazione dell'esponente del Movimento 5 Stelle lasciamo la stampa siamo al fatto quotidiano Di Maio di carriera e Fico Romantico li ho messi in rigo parla Grillo momenti difficili poi li ho fatti dialogare Roberto sarà in squadra dice il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo e anche sul fatto quotidiano c'è l'articolo il titolo in prima pagina e poi all'interno gli articoli sulle elezioni in Germania Angela Quarta perché siamo al quarto mandato quello che avrà la cancelliera uscente vince ma perde 8 punti per governare serve la Giamaica questo è il titolo un po' a sensazione ad effetto del movimento del fatto quotidiano il sole 24 ore aiuti a ostacoli per i giovani la dispersione degli incentivi e l'eccesso di burocrazia frenano l'utilizzo vediamo il messaggero questa è la prima pagina nazionale boom a destra Merkel più fragile elezioni tedesche la cancelliera vince ma perde 8 punti avanzata dei populisti sono il terzo partito crollo socialista la resa di schulz fine della grande coalizione governo possibile a questo punto solo con verdi e liberali ma evidentemente sarà un governo quello tedesco più debole e poi sul messaggero c'è l'intervista al presidente del parlamento dell'unione europea l'italiano Antonio Tajani che dice ora l'Italia giochi nell'unione europea da protagonista e siamo al tempo altro quotidiano romano in picchiata verso la morte questo dramma di terra cina esibizione acrobatica di caccia militari finisce in tragedia un pilota perde il controllo e finisce in mare davanti alla famiglia giallo sulle cause vedete questa foto agghiacciante con questi bagnanti che vedono proprio dalla riva dalla battigia l'aereo finire in mare e poi un altro titolo sempre dal tempo inchiesta sugli sms del terremoto fascicolo in procura sulla presunta scomparsa della beneficenza alle vittime del sisma questo è il titolo che riguarda il tempo siamo a libero Gentiloni e Padoan hanno le tasche vuote come il loro cervello scrive libero il governo varerà un'altra manovra che appesantirà i conti pubblici e poi andiamo a vedere il secolo XIX il quotidiano di Genova Berlino l'ultra destra trionfa vedete il titolo di apertura resta prima la Merkel con il suo partito di centro ma governo solo con liberali e verdi Europa in allarme a Bruxelles timori su migranti e economia e vedete anche la foto della manifestazione di Francoforte contro l'affermazione dell'estrema destra andiamo ancora avanti il mattino di Napoli la destra sfonda Merkel più debole questo è il titolo principale la grande coalizione è finita la cancelliera verso un'alleanza con liberali e verdi proseguiamo la gazzetta dello sport per chiudere con un quotidiano sportivo San D'Ambrosio questo è il titolo lo vedete a tutta pagina che riguarda l'Inter la rete di D'Ambrosio che all'ottantottesimo permette all'Inter di vincere la partita di ieri una partita non facile con il Genova Inter che dunque resta a ruota delle due battistrada ovvero Juventus e Napoli che hanno 18 punti Inter 16 poi staccate le altre e il Milan si chiede la gazzetta in questo caso Boom Boom Samp secondo KO Fassone avverte Montella mai più figuracce così ieri Milan battuto Amarassi dalla Samp in una partita che in pratica ha visto i rossoneri assenti ingiustificati in alto storico Sagan terza vittoria del mondiale di fila e dedica all'italiano il nostro ciclista scomparso Scarponi e questo era l'ultimo quotidiano della rassegna nazionale abbiamo chiuso con la gazzetta dello sport proprio per vedere dei titoli di sport perché di sport poi parleremo ampiamente nella seconda parte andremo a vedere anche i servizi che riguardano le gare di ieri giocate in serie D dalle formazioni abruzzesi ma parleremo anche del teramo vedremo le immagini della gara persa a Pordenone parleremo anche del Pescara dopo l'ennesimo pareggio Pescara che sabato prossimo giocherà la seconda gara esterna consecutiva al Cabassi contro il Carpi andiamo comunque torniamo sul centro pagina 2 sms per il terremoto il sindaco Pirozzi accusa 33 milioni mai arrivati e anche l'Abruzzo aspetta questo è il titolo che riguarda questa vicenda che vede anche diciamo in azione la magistratura per fare chiarezza il primo cittadino di Amatrice dice spiegazioni sull'impiego dei soldi donati dagli italiani la protezione civile ribatte sono in bilancio della nostra regione interessati due progetti e dunque si cercherà di fare chiarezza dopo questa denuncia e intanto i pensionati americani guardano l'Abruzzo vedete questo titolo in basso fondo pagina Florida il centro estero delle camere di commercio incontra gli investitori il presidente della camera di commercio di Pescara invece dice la nostra regione risulta per gli americani una meta ambita ed è il nostro compito far conoscere ancora di più le sue peculiarità e le dinamicità degli imprenditori dunque i pensionati americani guardano con simpatia la nostra regione noi parliamo invece a pagina 3 della forestale forestale la riforma all'esame del comitato europeo dei diritti dopo il ricorso dei sindacati di categoria l'Izza dice sarà valutata la compatibilità del testo con le regole dell'Unione Europea sul lavoro e sulla legittimità costituzionale del testo dovrà pronunciarsi anche la consulta investita dal Tar Abruzzo proseguiamo prima di passare a vedere le pagine provinciali torniamo un attimo a questa tragica notizia che riguarda a Terracina caccia precipita durante l'esibizione accaduto ieri tragico air show a Terracina morto il pilota Gabriele Orlandi di 36 anni la fidanzata era tra il pubblico questa tragedia lo vedete nelle immagini diciamo gli attimi seguenti al dopo che l'aereo è precipitato in mare vedete tra l'altro in primo piano c'è anche una imbarcazione della guardia costiera che stava presidiando proprio le acque in occasione di questo air show che si è davvero chiuso in maniera tragica andiamo come detto alle pagine delle cronache provinciali oggi ovviamente lunedì c'è molto più spazio per lo sport meno per la cronaca partiamo da Pescara delitto a Montesilvano il giovane Rom ucciso per un debito di droga la discussione nel pub tra Bevilacqua e Fantauzzi degenerata dopo un'offesa questo quanto emerge dalle indagini dei carabinieri l'indagato pronto a raccontare la sua verità l'arrestato chiarirà come sono andate le cose la notte dell'omicidio durante l'interrogatorio e noi allora andiamo a vedere nel servizio di Alfredo Primante quello che è accaduto nelle ultime ore sabato c'era stata la cattura dell'indagato di Fantauzzi e questa mattina come vi dicevo alle 11 ci sarà una conferenza stampa presso il comando provinciale dell'arma a Pescara proprio per fare il punto sulle indagini sull'omicidio di sabato scorso a Montesilvano Alfredo Primante Colannello avete ricostruito un po' la vicenda lei aveva parlato subito di un litigio insomma che elementi avete in questo momento? Io adesso non vorrei parlare troppo dell'attività di indagine perché non è anche prematuro per cui volevo solamente dare la notizia che Fantauzzi Massimo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara e dai carabinieri anche della compagnia di Montesilvano i due reparti che hanno lavorato fianco a fianco in questi giorni non dimentichiamoci che Fantauzzi era colpito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pescara su richiesta della Procura della Repubblica in particolare del Pubblico Ministero del Dottor Pompa e per cui per effetto di questo provvedimento che in questo momento lo ritiene responsabile dell'omicidio di Antonio Bevilacqua è stato tratto in arresto nella mattinata odierna Si è consegnato o l'avete trovato voi? Dunque questa mattina noi avevamo al pari degli ultimi giorni delle ultime ore direi una serie di attività molto forti sul territorio nelle ultime ore avevamo fatto delle perquisizioni in abitazioni e in zone che ritenevamo essere frequentate dal Fuggiasco questa mattina nella zona dei colli tra Pescara e Montesilvano perché ormai avevamo individuato che il raggio d'azione dove poteva trovarsi il latitante fosse questo questa mattina dicevo avevamo ancora dei servizi in atto perché stavamo accingendoci a fare ulteriori ingressi in altri immobili per cui la zona era frequentata da numerosi servizi sia in borghese che in uniforme e con macchine di istituto questa attività di pressione anche per effetto dell'elicottero che nei giorni scorsi c'è stato ha fatto sì che lui uscisse allo scoperto e appena visto la prima macchina utile nostra si è consegnata torneremo ovviamente nel corso delle edizioni del TG6 oggi a parlare di questa vicenda come detto anche per riferirvi della conferenza stampa dell'arma dei carabinieri che si terrà questa mattina alle 11 continuiamo dalle pagine della cronaca di Pescara dal centro due notizie anzi una notizia che riguarda la cronaca ancora che arriva sempre da Pescara colpo in via Raffaello rapina con la pistola dammi l'auto te la ridò un bandito di 60 anni fa scendere la conducente si fa consegnare l'appunto rassicura la vittima sul ritrovamento del mezzo in centro ma poi riesce ad arrivare in Molise in alto il bilancio dell'estate 2017 della Polizia proprio nell'ambito delle operazioni di controllo del territorio tra il 15 giugno e il 15 settembre andiamo a vedere anche la prossima pagina sempre cronaca di Pescara condono per le liti fiscali alla cassa 200 cittadini il 2 ottobre scade il termine ultimo per aderire alla sanatoria delle controversie riguardanti le tasse locali sconti a chi decide di chiudere la partita con il comune il 2 ottobre scade anche la rata della Tari la tassa comunale sui rifiuti e saranno circa 40.000 i pescaresi che dovranno pagare appunto questa rata in basso inaugurato il nuovo laboratorio Unicef sabato scorso in via Catullo a Pescara e poi lotta al fumo studenti in campo con la Lilt Montesilvano il comune assume due vigili urbani il 17 ottobre scade il bando pubblico di mobilità da altre amministrazioni locali possono partecipare solo agenti che non abbiano ricevuto sanzioni disciplinare a città Sant'Angelo battaglia dell'opposizione sul piano regolatore mentre a Francavilla mare ancora pulito a fine stagione siamo alla pagina di Chieti del centro Brilsa la villa comunale un giovane su quattro trovato con l'ascis dosi di marihuana in un calzino nascosto in un'aiola appartata e poi Fossa Cesia volontari vedete questo titolo di spalle in grigio volontari puliscono la discarica abusiva e trovano 30 chili di pagnotte di pane e poi in basso ad Atessa Don Carmine Miccoli dice Dio vuole piena occupazione a Tessa messa con gli operai davanti ai cancelli della Honeywell in sciopero da una settimana andiamo a vedere la pagina di vasto del centro paura in municipio Menna terza aggressione in tre mesi primo cittadino si barrica nel suo ufficio in comune per un esagitato con la violenza non si ottiene ciò che si vuole dice il primo cittadino e poi ancora vasto Moretti a giudizio sfilano i politici il referente dell'osservatorio antimafia querelato da smargiassi del movimento 5 stelle e poi moto contro il guardrail a 14 ragazza perde un dito è accaduto proprio al confine tra Abruzzo e Molise e poi Confcommercio riconoscimenti agli ambulanti storici di vasto e sempre a vasto pubblicati i nomi dei vincitori del premio Estonium siamo la pagina dell'Aquila del centro invasione festosa la città e degli alpini sfilata per 5.000 in centro gran finale del raduno ricordando il battaglione l'Aquila applausi per il 95enne Valentino Di Franco reduce dalla campagna di Russia e poi in basso troppe vittime sulle strade del Fucino Luco De Marsi l'allarme del parroco ai funerali dell'uomo deceduto in un incidente stradale siamo la pagina di Teramo del centro estate da record in tutta la provincia si parla di mare mare mai così pulito lo dice l'Arta solo tre casi di inquinamento nel 2017 erano stati 18 nel 2016 e 28 nel 2003 dunque mare pulito a Teramo e diciamo in provincia di Teramo in tutta la provincia dell'area costiera vedete questo specchietto che vede proprio la costa teramana da Silvi dunque dalla zona sud fino a Martinsicuro zona nord con tutti i risultati negativi delle analisi dell'Arta in basso andiamo invece a Teramo dove il sindaco Maurizio Brucchi dice vanno prolungati l'8-0 e strada Castellani per il primo cittadino con queste due opere la viabilità del capoluogo sarebbe definitivamente a posto siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere insieme però le pagine del messaggero prima di fermarci per qualche attimo decisiva la perizia sul fucile killer siamo anche sulle pagine del messaggero all'inchiesta per la morte di Antonio Bevilacqua e abbiamo visto anche il servizio di Alfredo Primante con l'intervista al comandante provinciale dell'arma di Pescara Marco Riscaldati questa mattina ci saranno ulteriori novità nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11 presso il comando provinciale dei carabinieri di Pescara in Viale D'Annunzio e poi armato di pistola le porta via l'auto è accaduto sabato sera a Pescara sempre a Pescara il comune cede quattro parchi in gestione si parte dal parco Florida aperto il bando pagina dell'Aquila la città ha abbracciato gli alpini vedete il titolo in alto grande festa tra ricordi e dolore e poi aeroporto stroncato trasportati in tutto sette passeggeri il comitato dei garanti dice gestione catastrofica rescindere con l'Express e poi in basso Guarino ecco le motivazioni della condanna siamo alla pagina di Avezzano sul Mona sempre dal messaggero tribunale senza giudici così si chiude siamo ad Avezzano l'avvocato Roberto Verdecchia rilancia l'allarme e dice non vi sono affatto indicazioni sulla loro sostituzione neppure temporanea e poi Fucino il frontale di Luco ieri funerali scatta l'inchiesta dal Fedena Oasi Santina Campana all'asta il 28 settembre e poi in basso ci spostiamo nell'area Peligna a Sulmona via al cantiere Masterplan per la bretella di Pratola Civitella Roveto Fiume Liri inquinato analisi che finiscono in procura e poi ancora Sulmona Santa Maria di Roncisvalle ridotta a discarica immondizia ovunque vicino la chiesetta che sta diventando un rudere infine torniamo nella Marsica ad Avezzano dove l'ex segretario della CGL ed ex assessore al comune di Avezzano Casale dice la povertà è un problema cittadino pagina di Chieti del messaggero centrale dello spaccio alla villa comunale sequestri e denunce e poi picchetto è messa la Oniwell di Atessa i 400 lavoratori dicono non molliamo e poi di spalla no ai conflitti sulle ZES ad Alessandro stoppa coletti per quanto riguarda la zona economica speciale e poi in basso ad Atessa rotatori e stoppe lavori trovati resti archeologici ad Ortona dermatologia apre oggi il reparto all'ospedale Bernabeo di Ortona e siamo alla pagina di Teramo e-commerce è un boom cibo e turismo in crescita il settore food sul web registra un aumento scusate di quasi il 20% Giulia Nova vedete il titolo di spalla scuola bus fermate lontane petizione dice che è giusta e poi Roseto vice capo della municipale l'opposizione chiede lumi al sindaco di Roseto infine Martinsicuro zone blu gli incassi sono in calo siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport e dunque possiamo fermarci per qualche attimo andare a vedere le previsioni del tempo con Luca Mennella poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 interamente dedicata allo sport di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 siamo allo sport partiamo dal calcio di Serie A per vedere i risultati grazie anche a questo specchietto del centro i risultati di ieri Cagliari Verona Chievo Verona 0 a 2 Crotone Benevento 2 a 0 Fiorentina Atalanta 1 a 1 Ellas Verona Lazio 0 a 3 Inter Genoa 1 a 0 Juventus Torino 4 a 0 giocata sabato Roma-Dinese 3 a 1 anche questo un anticipo Santoria Milan 2 a 0 Sassuolo Bologna 0 a 1 Spalla Napoli 2 a 3 vedete in classifica Juventus Napoli 18 Inter 16 Lazio 13 Roma e Milan 12 nelle zone basse Benevento ancora al palo senza aver conquistato neanche un punto Ellas Verona Genoa 2 Junese 3 Spalla 4 con Sassuolo e Crotone Noi andiamo a parlare del Pescara dopo lo 0 a 0 di Cremona Zeman si scopre Mister X il Pescara è un rebus difesa troppo bassa i dubbi sul playmaker l'Enigma Benali e Guns in Naftalina poche emozioni nell'ultima partita Bovo dice siamo una squadra da scoprire e vedete il posticipo di ieri con la vittoria un po' a sorpresa dell'Ascoli che passa per 2 a 0 al Manuzzi di Cesena cade tutto nel finale negli ultimi minuti al 39esimo l'1 a 0 per i marchigiani di Lores Varela al 42esimo Baldini per il raddoppio dei marchigiani si parla ancora del Pescara in basso tecnica e personalità ecco Canutè e se il Delfino avesse trovato il regista è questa una domanda che potrebbe trovare risposta nelle prossime ore siamo al campionato di Serie C il Teramo senza scampo poker del Pordenone Biancorossi capò in casa della capolista gara chiusa già nel primo tempo inutili gol di Ilari e Barbuti nella ripresa possiamo andare a vedere con diciamo l'aiuto delle immagini quello che è accaduto ieri con questa partita giocata in terra friulana con il calcio d'inizio vedete della gara diretta dal signor De Angeli di Abbiate e Grasso partita difficile per il Teramo in casa della formazione friulana come detto prima in classifica Pordenone che al nono minuto trova il vantaggio vantaggio griffato da Danza dunque si mette subito in salita la gara della formazione di Misterasta vedete l'azione il tiro di Danza dopo il cross di Formiconi e il vantaggio della formazione friulana in campo lo vedete in maglia nero-verde vedete il replay questo cross in area di rigore un po' si addormentano i difensori del Teramo arriva Danza di piatto segna il gol dell'1-0 poi al 31esimo c'è il raddoppio del Pordenone con Gerardi vedete prima la traversa poi il tapin vincente del giocatore della formazione di casa con il Teramo che chiede l'annullamento per fuori gioco ma Gerardi parte probabilmente dietro i giocatori bianco-rossi 2-0 e poi al 37esimo Sein Mazza segna il gol del 3-0 anche in questo caso approfitta di una respinta corta del portiere Calore a due passi dall'estremo Aprutino mette il pallone in rete e poi nella ripresa passiamo alla ripresa dove c'è il gol di Ilari che segna la rete del 3-1 e per qualche attimo si riapre la partita del Bottecchia ma poi ci pensa ancora Danza ad approfittare di una ingenuità della difesa Teramana per segnare ancora il gol del 4-1 gara di nuovo chiusa con la festa dei giocatori in maglia nero verde e poi nel finale arriva il gol su calcio di rigore di Barbuti calcio di rigore che viene assegnato dal direttore di gara per un tocco con la mano del numero 4 del Pordenone De Agostini si incarica della trasformazione Barbuti che segna al 39esimo della ripresa il gol del definitivo 4-2 per il Teramo è una sconfitta che forse alla vigilia poteva anche starci ma ad estare perplessità sono state le tre reti subite dalla squadra di Asta nei primi 37 minuti del primo tempo e nella giornata da segnalare la manita della fermana vedete in basso manita della fermana San Benettese KO i prossimi avversari del diavolo ovvero i marchegiani i canarini marchigiani segnano 5 reti al Sant'Arcangelo Comi salva il Vicenza vince il Mestre nel finale con la Triestina vince anche l'Albinoleffe per 2-1 con il Gubbio andiamo a vedere anche il 91esimo Asta non trova alibi una giornata storta dice il tecnico Terramano andiamo a vedere anche dal messaggero le pagine le prime pagine dello sport Pescara serve continuità si parte ovviamente dalla Serie B a Cremona un punto importante per frenare l'emorragia dei gol al passivo e poi si parla di Mancuso l'obiettivo è rientrare con il Cittadella Mancuso ex giocatore della San Benedettese il grande assente di questa prima parte di stagione e contro il Carpi torna anche a disposizione Campagnaro un'altra opportunità per la difesa del Pescara in basso si parla del MotoGP e Annone solo dodicesimo dice non erano questi gli obiettivi così il pilota va stese siamo alla pagina della Serie C del Teramo con la sconfitta di Pordenone Pordenone troppo forte per il Teramo abbiamo visto le immagini dei gol dei sei gol della partita giocata al Bottecchia Asta è la miglior squadra di tutta la C noi potevamo solo migliorare i primi minuti ha detto il tecnico della formazione Bianco-Rossa e noi visto che siamo sulla pagina che riguarda anche la Serie D con il derby giocato ieri a Morrodoro tra San Nicolò e Pineto possiamo aprire dunque ufficialmente la pagina della quarta serie San Nicolò vince con il rigore last minute Pineto in crisi 4 a 3 per la formazione di mister Campanile polemiche anche nel finale per questo rigore noi possiamo andare a vedere dunque cosa è accaduto a Morrodoro nel servizio di Roberta Di Sante Festival del gol ben sette a Morrodoro con il San Nicolò che nel finale riesce a spuntarla sul Pineto nel derby della quarta giornata la formazione di Amaolo in vantaggio di due reti si fa prima riacciuffare e poi superare con un rigore che fa discutere ma andiamo con ordine secondo derby stagionale per entrambe le compagini solito 4-2-3-1 per Luca Campanile che lascia in panchina Capitan Petronio e si affida al tridente con chiacchiarelli di Benedetto e Maisto alle spalle della prima punta tedesco Daniele Amaolo conferma il 4-3-3 recuperando della quercia in difesa e spostando Pezzotti in avanti nel tridente con Gragnoli e l'ex Bisegna l'altro ex dell'incontro Napolano parte invece dalla panchina Pineto che parte subito forte al nono sfiora il vantaggio con De Santis che si immola sulla linea a ricacciare la velenosa punizione di Bisegna e il preludio al gol pinetese che arriva al diciottesimo e porta la firma di Pezzotti intuizione di Zane che vede l'ex capitano della Samb sulla sinistra e lo serve Pezzotti brucia sullo scattondiaie e insacca all'angolino opposto per lo 0-1 il pineto spinge e al ventesimo Bisegna sfiora il raddoppio su punizione sugli sviluppi del corner poi esposito calcia al lato l'avvio del pineto è bruciante e al ventiquattresimo i biancazzurri adriatici mettono a segno il 2-0 con Gragnoli che raccoglie l'invito di Mariani e di testa spedisce la sfera in fondo al sacco dopo il raddoppio tre minuti di blackout per il pineto che dal 2-0 si fa rimontare vanificando tutto quanto di buono fatto fino a questo momento prima al ventinovesimo Maisto se ne va sulla destra e supera con un pallonetto Giacchetta accorciando le distanze poi al trentunesimo Di Benedetto in contropiede sorprende la difesa pinetese e completa la rimonta la gara è accesa e godibile con le due squadre che si danno battaglia a favore dello spettacolo nel finale di primo tempo si passa dal possibile 3-2 per il San Nicolò con Maisto che al quarantesimo raccoglie il corner di Chiacchiarelli ma schiaccia troppo con la sfera che si impenna al 2-3 in favore del Pineto che si concretizza al quarantaduesimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Bisegna Pezzotti il migliore in campo raccoglie il filtrante di Gragnoli firmando la doppietta personale in avvio di ripresa Campanile sostituisce Belchef con Fabriani e Chiacchiarelli con Massetti la mossa si rivela vincente infatti proprio il neo entrato al nono firma il 3-3 con una semi rovesciata da applausi Euro goal per il classe 96 che trascina il San Nicolò che rientra in campo con un altro piglio e complice il calo del Pineto ora insiste e al diciassettesimo sfiora il poker ancora Massetti in contropiede costringe Giacchetta al miracolo coi piedi soffre ora il Pineto che non è più quello del primo tempo e il San Nicolò prende campo al 24esimo Napolano è provvidenziale sulla linea a ribattere il colpo di testa di Moretti poi Cala spedisce alto è un vero e proprio derby senza esclusione di colpi ma per deciderlo nel finale serve un episodio siamo al 43esimo quando sugli sviluppi del calcio piazzato di Petronio il direttore di gara Panettella sanziona con la massima punizione un presunto fallo di Pepe su De Santis tra le proteste pinettesi dagli 11 metri Maisto spiazza Giacchetta e regala la gioia dei treffenti al San Nicolò che può festeggiare la seconda vittoria consecutiva tanta amarezza invece in casa Pineto che incassa la terza sconfitta in quattro partite e come detto ieri sera dopo questa gara c'è stata una lunga riunione dei dirigenti del Pineto per esaminare la posizione del tecnico Daniele Amaulo che resta almeno per il momento ancora alla guida dei Biancazzurri vedremo cosa accadrà nelle prossime ore se ci saranno ovviamente delle novità ne parleremo oggi nella prima edizione del nostro telegiornale ora invece parliamo dell'Aquila l'Aquila gioca la San Giustese vince la sfortuna due pali e una traversa le parate di Chiodini e la poca precisione condannano il rosso-blu ad una sconfitta sicuramente immeritata a regalare i tre punti ai marchigiani è stato Laringe andiamo a vedere il servizio sconfitta Beffarda per l'Aquila che cede di misura 1-0 al Villa San Filippo al cospetto di una San Giustese che è il simbolo del cinismo sfrutta l'unica vera palla goal creata e incassa i tre punti match winner ancora Laringe già decisivo nelle derby di Re Canati per l'Aquila una giornata no diverse le occasioni mancate dell'undici di Battistini che non riesce a svoltare in trasferta dovendo così per il momento riporre prospettive di alta classifica tra il rosso-blu due le novità rispetto allo schieramento visto con i nero stellati Pupeschi e Fabrizia al posto di Marra e Padovani ma è Valenti il più ispirato e sulla sua corsia di riferimento mette in difficoltà il difensore di casa Sant'Agata al settimo proprio Valenti serve Boldrini che calcia a colpo sicuro ma scheggia la traversa un minuto dopo Valenti ci prova in prima persona direttamente da calcio franco ma Chiodini dice no l'Aquila domina ma alla prima opportunità dei padroni di casa viene trafitta ventitresimo Moccia lavora un pallone serve Marfella il quale mette in mezzo per la corrente Laringe che insacca da pochi passi 1-0 San Giustese e l'Aquila che dopo alcuni minuti per metabolizzare la rete reagisce poco prima della mezz'ora Valenti ci prova da piazzato ma Chiodini non si fa sorprendere il portiere marchigiano è attento anche al trentatresimo quando salva sul colpo di tacco di Fabrizi innescato dal cross di Steri nel corso dell'intervallo Battistini provvede ad un doppio cambio Bouchet e Padovani al posto di Boge e Fabrizi al decimo tocca anche a Rucci che prende il posto di Brenci per l'Aquila è sostanzialmente un monologo contro una San Giustese che si difende ma è assistita dalla buona sorte quando al quarto d'ora Sieno serve Padovani il quale centra in Pielo il palo i cambi si susseguono e l'Aquila torna a farsi pericolosa intorno alla mezz'ora due volte con Sieno il primo tentativo è neutralizzato da Chiodini sul secondo non ha migliore fortuna le ultime speranze dell'Aquila in pieno recupero si infrangono sulla corriacea difesa della San Giustese che vanifica la combinazione Boldrini-Rucci sugli sviluppi di un piazzato tre punti per la San Giustese che resta al secondo posto in scia della capolista Vispesaro per l'Aquila un pomeriggio amaro e la prossima settimana si riaprirà con le note vicende societarie e un closing che allo Stato resta un'incognita Andiamo a vedere anche sul centro facciamo un piccolo passo indietro l'articolo sulla vittoria del San Nicolò in questo pazzo derby San Nicolò vince al novantesimo vedete in basso campanile ripresa dominata Mauro tecnico ospite pari più giusto abbiamo visto il servizio della partita dell'Aquila ora parliamo invece della Vastese Vastese battuta in casa per 2 a 0 allo stadio Aragona dal Matelica i gol nella ripresa di Losicco e Magrassi per i Marchigiani partita in equilibrio per un'ora poi il Matelica passa all'Aragona e costringe i Biancorossi alla seconda sconfitta consecutiva e noi andiamo a vedere cosa è accaduto allo stadio Aragona con la sconfitta della formazione di casa allenata da Gianluca Colavitto nella sfida fra due formazioni ambiziose ma entrambe reduci da un passo falso la spuntata per 2 a 0 il Matelica che si conferma bestia nera delle abruzzesi dopo i successi con Pineto e San Nicolò i ragazzi di Tiozzo sono riusciti a fare bottino pieno all'Aragona anche con la Vastese al termine di 90 minuti combattuti per gli abruzzesi di Colavitto che per quanto fatto nella ripresa avrebbero forse meritato il pari si tratta del secondo K.O. di fila dopo quello di Pineto e primo casalingo stagionale all'Aragona la squadra di casa con Bagaglini al rientro dopo la squalifica si schiera con il solito 4-3-3 i marchigiani rispondono con un 4-3-1-2 avvio di gara di studio fra le due squadre con gli ospiti che si affacciano per la prima volta dalle parti di Camerlengo al sesto con Olivera che in area si gira concludendo però debolmente a lato la formazione di casa cerca di fare pressione nella metà campo ospite facendo però i conti con una difesa ben piazzata davanti a Demalia al sedicesimo poi in uno scontro di gioco si infortuna il difensore bianco-rosso Iodice sostituito da Iarocci al diciannovesimo si rivede intanto la squadra ospite con un tiro alto di Losicco al ventunesimo però Lavastese arriva ad un passo dal vantaggio con Stivaletta che crossa centroarea per Cristaldi che riesce di testa solo a sfiorare la sfera che termina a lato la gara resta però abbastanza bloccata con i due portieri di fatto inoperosi fino al trentaduesimo quando l'estremo Matelicese Demalia su tiro dalla distanza di Fiore a compiere il primo intervento degno di nota la prima parata facile per Camerlengo arriva invece solo al quarantaquattresimo su conclusione tutt'altro che irresistibile di Gioe dai diciotto metri nella ripresa al secondo subito Bastese pericolosa con un colpo di testa di Leonetti che manca di poco il bersaglio grosso e una fiammata isolata visto che poi non accade più nulla il tecnico ospite vede la sua squadra piuttosto spuntata e decide così di gettare nella mischia al sedicesimo Magrassi per Gioe passa qualche attimo i marchigiani trovano il vantaggio con lo sicco che di piatto mette la sfera alle spalle di Camerlengo su perfetto cross di Oliveira Colavitto così decide di ricorrere a Bittai che entra al posto di Stivaletta la squadra di casa cerca di spostare in avanti il baricentro del gioco ma si vede al venticinquesimo solo su punizione alta di Fiore al trentaseiesimo ancora Bastese pericolosa con Leonetti che alza però sopra la traversa un pallone piuttosto invitante il forcing finale della formazione di casa vede al quarantesimo la respinta con i pugni di De Maglia su De Chiara ci prova poi anche Alberico al novantesimo ma non è giornata per i biancorossi visto che poi al quarantacinquesimo Magrassi nella più classica delle azioni di contropiede fa due a zero chiudendo con qualche minuto di anticipo la contesa e domenica prossima i biancorossi di Colavitto saranno di scena ancora davanti al pubblico amico per ricevere la visita della Jesina una gara questa assolutamente da vincere Noi proseguiamo con questa carrellata di servizi e con la lettura dei nostri quotidiani proprio sulle gare di Serie D vediamo l'altra pagina relativa proprio alla Serie D del messaggero va stessa all'Aragona un altro K.O. pesante e poi Palumbo gol Francavilla Corsaro ad Agnone dunque vittoria dei giallorossi in terra molisana e poi l'Avezzano parte forte ma poi si spegne la vis si impone per 2 a 1 andiamo a vedere invece dal centro Avezzano demolito e tifosi aggrediti trasferta da Incubo a Pesaro seconda sconfitta il presidente Paris Furibondo squadra in silenzio con i Nero Stellati gara da ultima spiaggia domenica prossima al Dei Marsi si giocherà infatti Avezzano Nero Stellati allora noi andiamo a vedere nel servizio di Jacopo Forcella cosa è accaduto al Benelli di Pesaro L'Avezzano esce sconfitto seppur di misura dal Benelli di Pesaro al cospetto della prima della classe uno stop che fa proseguire il momento nero dei biancoverdi ancora fermi a quota due punti in classifica con Giampaolo che si presenta con il tridente davanti formato da Pellecchia Branicchi e Dos Santos ma lo schieramento con una prima linea pesante non basterà per arginare la squadra di Riolfo che inizia subito dopo tre minuti con la doppia conclusione di Ficola prima e Olcese poi entrambe fuori di misura la risposta a Vezzanese con Dos Santos al sesto che spedisce però alto il sinistro e poi al decimo sempre con il centravanti brasiliano che nonostante carta riesce comunque a concludere verso la porta pesarese anche se in maniera imprecisa al diciassettesimo visse che costruisce una ghiotta opportunità spunto di Buono Cunto che serve Ficola traversone da destra con giri giusti che pesca la staffilata proprio di carta gol mancato non di molto proteste marchi già nel minuto 31 triangolazione tra Buono Cunto e Olcese l'ex attaccante del Teramo cade in aria dopo un contatto con un avversario ma per sprezzola di Mestre tutto regolare i bianco-rossi però salgono di livello dopo tre giri di lancette situazione da Moviola ancora nell'area marsicana punizione di carta la battuta di Cacioli è salvata sulla linea da un difensore bianco-verde almeno nella valutazione della terna arbitrale Lavezzano però non riesce più a contenere i paroni di casa che passano al minuto 34 destro di controbalzo di Buono Cunto su sponda di un compagno di squadra la traiettoria diventa imparabile per Lombardi e Bis che passa a condurre nel frattempo Albenelli comincia a piovere e la reazione bianco-verde è sempre affidata a Dos Santos che al minuto 39 viene anticipato sul più bello dalla chiusura di Cacioli nella ripresa il light motive rimane più o meno lo stesso con la Visse che cerca il punto della sicurezza al 51esimo angolo calciato da buono punto Cacioli però non riesce a trovare la via della rete esattamente come Baldazzi che strozza la conclusione successiva è sempre la squadra di casa a fare la partita e a rendersi pericolosa al 58esimo grazie a Ficola che anticipa tutti serve l'inserimento dell'accorrente carta che con la battuta al volo di sinistro non riesce a centrare lo specchio della porta tracce di Avezzano al 67esimo quando Pellecchia strozza troppo il pallone al momento di battere a rete e con Marfella che non ha problemi a fermare il tiro dell'esterno bianco-verde Giampaolo toglie Cerone e inserisce Bianciardi ma dopo nemmeno un minuto alla Visse cala il Visse lo fa grazie al cross di Ficola che trova in area di rigore il terzo tempo di Emiliano Occese che sale più in alto di tutti e manda di testa nell'angolino basso della porta dei Lombardi al risultato acquisito girandola di sostituzioni nella Avezzano Giampaolo richiama Branicchi per Acatullo mentre tra le fila Marchigiane è fuori Bartoletti, Baldazzi e Boccioletti per Bellini, Cruz e Calzola ma evidentemente la squadra di Riolfo si rilassa troppo e al minuto 88 è proprio Acatullo a riaprire le sorti del match sfruttando un errore di Marfella e depositando in rete il pallone nel 2-1 non succederà più nulla però nei minuti restanti compresi 4 di recupero l'Avezzano si ferma ancora ed è il secondo stop in 4 gare per i bianco-verdi ancora secco di vittoria con soli 2 punti e sole 2 reti realizzate troppo poco per una squadra costruita almeno negli uomini con ben altre ambizioni domenica impegno a demarsi da non fallire contro il nero stellati Prato la fanalino di coda per la Vissi invece continua il viaggio a punteggio piano in classifica Perla di Palumbo il Francavilla torna a volare questo l'articolo del centro sulla vittoria ottenuta dai giallorossi in terra molisana la rete realizzata dal giocatore francavillese al 37esimo del primo tempo andiamo a vedere allora il servizio sulla gara giocata al Civitelle di Agnone Finisce 0-1 al Civitelle tra l'Olimpia agnonese e il Francavilla dopo un avvio piuttosto soporifero in cui si è fatto fatica a far decollare il match abbiamo assistito a un buon finale di primo tempo intanto solo al 19esimo abbiamo registrato una delle poche azioni degne di nota fino ad allora con una buona occasione sciupata dai padroni di casa ci prova Margherita spacca e respinge e sulla ribattuta Nyang manda alto al 31esimo è Zerbo che cerca il vantaggio dalla sinistra ma Faiella si fa trovare pronto passano 4 minuti e i giallorossi conquistano il vantaggio con un tiro di Palumbo dai 25 metri che finisce sotto l'incrocio dei pali sul finale al 41esimo ecco l'occasione del pareggio Granata su angolo di Margherita ma Cassese di testa manda fuori su vantaggio giallorosso si va negli spogliatoi con le immagini di Danilo Scarinci eccoci nella ripresa padroni di casa sembrano crederci un po' di più mentre gli avversari amministrano il vantaggio senza grossi scossoni al sesto è Niang che ci prova dalla sinistra ma spacca si fa trovare pronto al quindicesimo altra occasionissima per i Granata che arriva su calcio piazzato ma il tiro potente di Margherita viene deviato in angolo al ventesimo si fanno rivedere gli abruzzesi con l'uomo del giorno Palumbo la palla sfiora appena l'incrocio dei pali al ventiduesimo è sempre Palumbo che ci prova dalla distanza ma Faiella si tuffa e salva tutto sul finale al quarantaduesimo ecco un episodio da Moviola l'Agnone protesta per un fallo di mano di Romeo proprio sulla linea dell'area ma per il direttore di gara la bianca della sezione di Foggia è tutto regolare ed è regolare anche il contatto su Santoro poi più nulla fino alla fine del match con il Francavilla che se ne torna a casa con tre punti importantissimi e l'Agnone che deve rivedere qualcosa soprattutto dal punto di vista emotivo e diventare molto più cinico se vuole ottenere i risultati Siamo quasi in chiusura andiamo a vedere cosa è successo nei campionati regionali di eccellenza e promozione partiamo dall'eccellenza siamo sempre sulle pagine del centro Giulianova pari e tanta sfortuna 0-0 Alfadini con l'Arenato Curi angolana vediamo le altre partite Montori 88 River Chieti 0-0 Torrese Paterno 0-3 Capistrello che batte il Miglianico per 2-1 le altre gare con la vittoria del Chieti 3-0 dei Neroverdi al Guido Angelini con il Penne San Buceto San Salvo 3-0 vediamo in basso le altre partite Martinsicuro Amiternina 2-1 Cupello Alba Adriatica 2-1 Acqua e Sapone Sportore 2-2 proseguiamo con il girone A di promozione Virtus Teramo Colonia 4-0 Celano Marsica Santomero 2-0 Mosciano Pontevomano 3-2 Nuova Sant'Egidiese Fontanelle 1-3 e poi Alba Montaurei Morrodoro 2-2 Luco Mutignano 2-1 Rosetana Piano della Lente 2-0 Notaresco Tossicia 2-2 San Gregorio Pucetta 4-2 e siamo al girone B Sulmona Fossa Cesia 1-0 Ortona Virtus Pratola 2-0 Fater Angelini Abruzzo Sporting Celano 2-1 Villa 2015 Delfino Flacco Pescara 0-0 Real Treciminiere Castiglione Valfino 0-0 Casal Bordino Palombaro 1-0 Val di Sangro Raiano 2-2 Bucchianico Piazzano 4-2 Casolana Passo Cordone 1-1 Arriviamo a vedere quello che è accaduto anche negli altri sport per quanto riguarda intanto il rugby l'Aquila ha ancora un rebus alla vigilia dell'esordio più incognite che certezze per i neroverdi attesi domenica al fattori contro il Prato Sesto e poi andiamo ancora avanti il basket Roseto va verso l'esordio con il rebus degli acciaccati l'amatori Pescara è già pronta per il campionato il Quacero Aiola dice buona la difesa le altre abruzzesi di basket Campi sconfitto ma la squadra cresce e il Giulianova dice il nostro obiettivo è arrivare ai playoff poi Teramo l'ultimo test finisce in parità 67-67 con il Porto Sant'Ilpidio Ortona il roster è ancora incompleto siamo alla palla a volo alla Serie 2 con la prima giornata che ha visto la prevedibile sconfitta della SIECO per 3-0 a Spoleto i parziali 25-15 25-22 26-24 dunque partenza in salita per la formazione ortonese che perde in casa degli Umbri favoriti per la vittoria finale nel prossimo turno la SIECO Ortona ospiterà Cantù nella prima casalinga e dunque ci sarà l'occasione per vincere e conquistare il primo successo Cantù ieri sconfitta in casa per 3-1 dai pugliesi del Gioia del Colle andiamo a vedere e poi l'ultimo titolo che riguarda il ciclismo perché siamo davvero in chiusura leggenda Sagan storico tris mondiale mai nessuno aveva vinto tre volte di fila successo dedicato a Scarponi trentin quarto Moscon squalificato il commissario tecnico dell'Italia Cassani dice non sono contento meritavamo un posto sul podio siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì 25 settembre con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà come sempre domani puntuale alle 8 io ringrazio voi per averci seguito ringrazio Silvia Gentile in regia vi rinnovo l'appuntamento con il TG6 delle 14 grazie e buon proseguimento di giornata grazie